Dovrebbe essere un ologramma, c'è pure l'uomo di là Lo sento che non è un ologramma, lì? Secondo me non è un ologramma, lì Secondo me la gente smertiva pure Ma sei vero, sei finto Sei vero, sei finto Sei vero, sei finto Are you true? No Gente strana in aeroporto Non gente, non gente strana in aeroporto Perché sorridi Alessio Ci sono non persone Ho visto un amico, sono molto interessante Tu? Di fronte a te Di fronte a te Sto incontrando in volontaria Poi Davide Luce Sto incontrando in aeroporto